ciao giuccia questa è la faccina di qualcuno che non sa cosa sta per succedere eh amore? eh? you don't think you're going to have a bath? cookie! adesso vi faccio vedere che cookie non ha assolutamente paura del foglio oh wow che profumato che profumino cookie pulcino pulcino è l'ora di aprirli speriamo di non fare danni ovviamente poi mi servirà magari l'aiuto di Yann a montare tutti i vari quadretti perché io in previsione di questo pacco che sapevo che doveva arrivare sono passata all'IKEA e come vedete qui dietro ho fatto una scorta gigantissima gigantesca enorme di cornici a parte che sono un po' fanatica delle cornici dei quadri di post mi piacciono tantissimo voi sapete che lì sopra il divano ehm avevo fatto questo specchio di angolo pieno di cornici e quadretti che per mesi è rimasto vuoto me lo dicevate sempre su instagram perché appunto non avevo tempo di guardare in quel periodo finalmente per colmare queste lacune che ho ovvero della mancanza di tempo per ingegnarmi e creare dei quadretti la compagnia design mi ha mandato diversi poster che ho scelto sul loro sito wow avevo paura di rovinarli e che adesso insieme a voi monteremo appunto nelle cornici magari assieme anche a Yann potrebbe essere anche una grande idea non si sente allora ci sono diversi quadretti e diverse misure ovviamente vi lascio tutti i link sotto questo video e vi lascio anche un codice sconto con il nome The Indian Girl allora io ho ordinato dei quadretti piccolini proprio stile fotografia molto carini Breathe Love e Inspire questi sono tutti i quadrettini piccolini che andranno a riempire queste cornici le vedrete le vedrete adesso io e Yann ci mettiamo un po' di impegno vero Yann? mhm dopodichè ho preso un'altra misura leggermente più grande sembra un foglio a quattro e ho preso You will forever be my always che è ovviamente il simbolo donna e uomo previsione matrimonio questi quadri amore vanno a Bassano you know you know I bought all this poster and pictures for Bassano All of me loves all of you che è praticamente una delle canzoni che abbiamo scelto You Yann perchè è una delle nostre canzoni quindi sarà suonata ovviamente al matrimonio e ovviamente avevo voglia di avere un quadretto a casa con questo questo mi piaceva tantissimo non è tanto il simbolo The Indian Girl magari farò un piccolo bindi rosso però mi piaceva mi ha fatto bene e qui sono semplicemente dei fiori con tonalità rosa che ho preso per creare anche un po' un tocco di colore sul muro e ve lo consiglio che sia verde che sia grigio che sia rosa che sia qualsiasi colore in mezzo a una serie di quadretti con scritte oppure bianchi e neri ci sta benissimo il colore poi ho preso delle versioni un po' più grandi come potete vedere voi lo sapete che questo è il colore tema del matrimonio quindi blush e queste sono le palme perchè io yann amiamo le isole amiamo i posti caldi e ho pensato che poteva essere molto carino non so quali riusciremo a fare oggi però spero passando a quelli un po' più grandi perchè dopo ho preso i bianchi giganti ho preso questo quadretto con le piume dream mi piace tantissimo quadretto alla fine è un poster non so proprio continuo a dire quadretto ovviamente da brava fashionista non potevo avere una frase di Coco Chanel quindi I don't do fashion I am fashion che peccato che l'hai inventata lei sennò avrei potuto anche inventarla io e poi ho preso i super giganti quindi questo che ovviamente è un mappamondo che ho pensato per appiccicare insieme a Yann dei piccoli post-it sui posti dove siamo stati insieme guarda questo e ovviamente la Kate questo quadro ormai iconico non poteva mancare in questa collezione anzi è il primo che ho messo nel carrello e direi che è ora di iniziare io direi di iniziare quasi quasi da quello grandissimo che dite oppa allora il grandissimo è dedicato alla Kate per il mappamondo ovviamente devo passare all'Ikea di nuovo perchè voi ridete ma praticamente credo di aver lasciato 70 euro di tutti questi quadretti perchè sapete come funziona l'Ikea? 5 euro di qua 5 euro di là 7,99 4,99 insomma è sempre così questi prezzi ottici alla fine mi uccidono sempre cioè mi uccidono quando arrivo alla casa adesso voi dovete capire una cosa è anche divertente fare le cose per la casa però di solito mi piace farle fare Iana fare le istruzioni che ho amore mi aiuto un secondo un secondo ok ok qui qui è sempre più l'antale no? è sempre più l'antale è sempre più l'antale ok next time disegno send it to Iana ahaa I got it we got k cookie Moochi let's make a picture allora adesso che mi hai usato con quelli li come con quelli come con quelli Gnami Allora, uno Via E adesso quelli piccolini Usiamo Breathe Breathe, Love and... No, Inspire Teniamo la cornice o no? Ah, ma devo togliere... E vedi, mi sto già perdendo un passaggio La pellicola Mia mi guarda come si è posto di cima But don't put it on You still have to put this here Ah, mi perdono Why women need men? Sono una bionda, amore Wait, because there is one down Because I put it down Ok Ok Wait, check Adesso potete capire che la nostra casa è tutta Ikea Grazie a Yann Yann non si vuole far vedere dalla telecamera Si vedono solo le sue mani Tra l'altro io oggi ho un'allergia incredibile Infatti ho degli occhi da trotta Ta-daa Inspired No, amore Yes, like If we can do something together Noo Eccolo La forza brutta Non riesco Voila tutti chi non capisce cosa stiamo facendo sit down l'ho già detto no che c'è un po di casino dietro di noi quindi non fateci caso è un blog amore real life versus instagram real life ovviamente ci sono i panni lavati perché sono tornata dalla cambogia e dalla cambogia e da londra quindi ma ne vai io sto fast ok 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 next one good job oh my god avete capito che la nostra casa che è tutta aikea è ovviamente grazie a yann cioè io ho le idee che quello bisogna dirlo, io sono l'architetto e Yann è l'ingegnere però amore ok, next picture please but this looks really weird like flowers like my grandma had this kind of painting oh my god senti amore, non giudicare le mie scelte stilistiche vedrai alla fine how beautiful will be Bassano next please look it's our la sua reazione al fatto che io abbia scelto la nostra canzone da appendere è stata cosa fai amore? shit, how do they pick it? let me do it no 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 i knew your nails are a weapon ttadam cocco no 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 i let them i let them i let them okay now 5 if you say he destroyed something next one montaggio that's look different oh my god i'm so happy that's the young a me still turbo so happy jay and jay ready to go out we are going to a festival the festival of May, it's called my Alice so in Italian I'm so bad I'm so happy I'm so happy I'm so happy I'm so happy what are you doing? showing my moves are you happy? always happy and you? I was burnt to be happy and make you happy oh that's a good answer c'è un po' di vento e quindi stiamo andando verso l'Eurovea Eurovea è uno dei centri commerciali di Bratislava tra l'altro è l'unico dove non c'è Zara quindi non ci vado spesso però è il mio posto preferito per quanto riguarda l'aperitivo perché Eurovea sta proprio sul Danubio su questo fiume qui e ci sono una serie di locali di baretti proprio fuori dal centro commerciale dove di solito prendiamo l'aperitivo prendiamo la shisha quindi è abbastanza carino cioè molto carino perché ho detto abbastanza lo sai perché la gente mi guarda e quando faccio i vlog io ancora non ci sono abituata mi vergogno e sbaglio pure a parlare comunque adesso andiamo lì così ci beviamo qualcosina prima che muoio di freddo Yann ha il telefono guardate che bello che è Yann è così bellissimo con questo jeanshack grazie mostrovi ai tuoi persone mostrovi ai miei persone show' i io show' i to your people show' i to your people show' i to your people this is so beautiful